Penso che ormai praticamente tutti i creator che stanno su YouTube abbiano ricevuto questa meravigliosa email. Prima di riceverla ragazzi ero stata soltanto molto genericamente informata su quanto stesse succedendo da un'amica quindi non sapevo proprio nello specifico cosa effettivamente stesse per succedere qua su YouTube fino a quando appunto una mattina mi sono alzata con questa meravigliosa email nella posta arrivata della mia casella di posta. Sicuramente ragazzi ricevere e leggere il contenuto di queste mail non è stato affatto piacevole sicuramente per me non lo è stato e sicuramente non lo è stato praticamente per chiunque ragazzi porti contenuti su YouTube perlomeno magari forse la maggior parte perché magari ci sono alcuni creator che non si sentono minimamente sfiorati da questa novità perché magari appunto nei propri canali non portano minimamente argomenti che possono interessare un pubblico di bambini. Che dire ragazzi che dire un po' di tempo fa già avevo affrontato diciamo in maniera molto generica l'argomento YouTube è morto perché mi sentivo molto sconfortata ma non perché fosse successo qualcosa in particolare ma perché semplicemente il mondo di YouTube ormai mi comunicava soltanto negatività diciamo così nel senso che ovviamente ragazzi col passare degli anni YouTube è cambiato quindi le intenzioni iniziali che aveva chiunque si mettesse a portare contenuti su YouTube ovviamente sono totalmente cambiate quindi è cambiato completamente YouTube e per questo io lo ritenevo già tempo fa morto. Ora come ora ragazzi vista questa meravigliosa novità non posso fare altro che riconfermare questa cosa e dire che sicuramente ragazzi YouTube è morto YouTube ormai è stato distrutto ulteriormente sicuramente questo nuovo atto questa nuova legge ragazzi non fa altro che far sprofondare ancora di più nell'abisso questa piattaforma oramai è con la tristezza nel cuore ragazzi che ve lo dico ma sinceramente tutto questo non mi stupisce più di tanto nel senso che appunto ragazzi considerando già morto YouTube tutto ciò non fa altro che come vi dicevo poco anzi riconfermare quello che effettivamente pensavo. Secondo me è veramente uno scandalo ragazzi è scandaloso e tutto questo è successo adesso io non so nel dettaglio ma è successo perché YouTube ha fatto probabilmente qualcosa che non doveva fare con dei dati sensibili di appunto bambini di ragazzini ha dovuto pagare tipo una multa salatissima per questo motivo e quindi ovviamente avendo sbagliato lui ora la fa pagare a coloro che cercano ancora di portare dei contenuti su questa piattaforma per cui ho fatto io lo sbaglio la pagate voi per cui ovviamente io non mi ritengo più responsabile praticamente YouTube ha detto questo ragazzi con quest'atto io non mi ritengo più responsabile dei contenuti che portano i creator ovviamente che sono destinati a un pubblico infantile per cui ovviamente sei tu creator che mi indichi se questo tuo contenuto può essere destinato ai bambini e se così fosse ovviamente te la faccio pagare perché ragazzi ovviamente i video che vengono considerati destinati ai bambini non guadagneranno praticamente più nulla perché viene annullata totalmente la pubblicazione di annunci su questi contenuti e cosa ancora più grave a mio avviso perché adesso qui ragazzi come hanno detto già parecchie persone su questo argomento lo ripeto anch'io qui adesso non si tratta manco più tanto della questione non ci guadagno nulla perché ormai ragazzi già YouTube aveva penalizzato molto questa cosa ci ricordiamo ragazzi che prima riguardava la questione riguardava tipo contenuti che potevano essere tipo violenti tipo insomma contenuti che potevano non essere ovviamente il top e quindi per questo motivo magari se il tuo video veniva ritenuto non idoneo ovviamente la monetizzazione veniva praticamente annullata quindi già era stato penalizzato da quel punto di vista cioè già perlomeno i creator erano stati penalizzati da quel punto di vista con la monetizzazione con questo ancora di più ma il punto è che adesso non stiamo a badare tanto alla questione della monetizzazione che come dicevo già comunque era stata in parte penalizzata qui adesso non si parla più di guadagno ragazzi si parla del fatto che non solo annullano la pubblicazione di annunci pubblicitari sul video ancora più grave ragazzi disabilitano i commenti a questi video cioè ma adesso mi dovrebbero spiegare che diavolo mi rappresenta questa cosa ragazzi secondo me questa è la cosa più scandalosa e più assurda che abbiano potuto decidere di fare con questo atto cioè praticamente tu annulli i commenti al mio video cioè allora a questo punto ragazzi delle cose youtube mi dovrebbe spiegare per quale motivo un creator dovrebbe ancora portare allora i propri contenuti sulla piattaforma perché perché youtube ragazzi ha come fulcro aveva ormai aveva parliamo al passato aveva come fulcro fondamentale quello dell'interazione appunto quindi ovviamente io carico il mio contenuto perché perché voglio che comunque ovviamente sì la gente lo veda ma cosa che mi fa ancora più piacere che la gente comunque appunto commenti mi faccia sapere il proprio pensiero quindi c'è il fulcro di youtube era proprio questo ragazzi il fatto che comunque la gente esprimesse il proprio pensiero riguardo quel tale contenuto e quindi cioè se ci togliete questo se ci togliete addirittura la possibilità di avere dei commenti perché il video potrebbe essere magari destinato ai bambini cioè a che serve più questa piattaforma che serve più caricare qualsiasi cosa ragazzi serve più a niente più a niente poi tra l'altro io mi sono andata a leggere appunto prima di fare questo video come determinare se i contenuti sono destinati ai bambini ragazzi cioè le cose più assurde adesso vi leggo questo elenco ora nel determinare se il tuo canale o video è destinato o meno ai bambini devi tenere in considerazione diversi fattori tra cui l'oggetto del video ad esempio contenuti didattici per bambini in età prescolare se i bambini sono il pubblico di destinazione previsto o effettivo del video se il video include attori o modelli bambini se il video include personaggi celebrità o giocattoli che attirano i bambini inclusi personaggi animati o soggetti di cartoni animati se il linguaggio del video è pensato per essere compreso dai bambini quindi per assurdo ragazzi anche questo stesso video secondo insomma queste indicazioni potrebbe essere destinato ai bambini perché mi pare ovvio sto parlando comunque normalmente non è che sto usando chissà che termini assurdi che non possano essere compresi dai bambini ragazzi ci rendiamo conto di quanto sia assurdo tutto questo se il video include attività che attirano i bambini ad esempio recite canzoncine o giochi semplici oppure contenuti che riguardano la prima educazione se il video include canzoni storie o poesie per bambini qualsiasi altra informazione in tuo possesso utile a determinare il pubblico del tuo video ad esempio prove empiriche riguardo i destinatari del tuo video cioè ragazzi allora ci rendiamo conto che tutto questo è assolutamente assurdo cioè praticamente un qualsiasi video non lo so per qualsiasi recognito motivo potrebbe essere destinato ai bambini tranne magari video che ne so scientifici specifici per esempio è ovvio che magari un video di medicina un bambino non se lo va a vedere per esempio un video politico video di informazioni ovviamente video che magari di questo genere sicuramente non possono attirare i bambini ma cioè io precisamente per esempio ragazzi io che faccio gameplay ovvio magari so che per esempio Resident Evil 2 è Peggy 18 quindi è vietato ai minori di 18 anni ma effettivamente come faccio io a sapere se bambini possono arrivare a guardare il mio gameplay perché adesso ragazzi ora come ora sappiamo benissimo che anche i minorenni giocano a giochi Peggy 18 lo sappiamo i genitori glieli comprano cioè sono anni anni e anni che i bambini giocano a giochi per adulti quindi chi impedisce un ragazzino che ne so di 10 anni che ormai hanno tutti lo smartphone e tutti libero accesso a internet e a youtube chi gli impedisce per esempio di arrivare a un mio gameplay di Resident Evil 2 e di guardarselo in totale tranquillità senza controllo alcuno cioè a me questo ragazzi chi me lo dice io come faccio a saperlo praticamente questa è una limitazione a qualsiasi cosa quelli che fanno cover per esempio di che ne so canzoni di cartoni animati non potranno più cioè possono effettivamente ma ragazzi cioè il tutto si ridurrà a pubblicare il video e basta i like e i dislike punto perché non potranno le persone non potranno più commentare il loro video ci rendiamo conto di quanto sia assurdo tutto questo io mi ripeto ragazzi continuo a ripetermi perché secondo me tutto ciò è assolutamente assurdo cioè poi tra l'altro mi stavo chiedendo cioè che è uscita adesso questa cosa io ho fatto tipo più di mille video cioè dovrei andare a specificare in ogni video se quel video può essere per bambini o no questo non me l'ha detto nessuno me lo sto chiedendo io dovrei fare questa cosa io non so ragazzi non so come ragiona youtube tra l'altro nell'email che hanno mandato alla fine ci hanno pure scritto siamo consapevoli del fatto che per alcuni creators non sarà facile che ci vorrà del tempo per abituarsi a queste modifiche necessarie ne siete consapevoli avete provato insomma a sciacquarve nelle mani a lavarve nelle mani scrivendo questa frase veramente ridicola ma tanto a voi che ve fregano ma a sto punto youtube ragazzi a che serve più a che serve più soltanto a quei canali che fondamentalmente fanno video che non possono attirare i bambini non c'è il totale controllo poi tra l'altro youtube dice se non indicate voi se i video sono meno per bambini magari ci penserà l'algoritmo di youtube che però ovviamente non è infallibile e quindi c'è magari segna pure il video alla cazzo di cane per dire ragazzi cioè io continuo a non crederci continuo a dire che youtube ormai che cos'è che cos'è youtube ormai non è più nulla non è più quello che era una volta questo mi pare ovvio ma hanno finito di rovinarlo ragazzi hanno finito veramente di rovinarlo lo hanno reso una schifezza diciamoci proprio la sincera verità e io quando letto di questa cosa vi dirò mi sono scoraggiata ancora di più anche se come vi ho detto all'inizio in fin dei conti non mi stupisco più di tanto perché comunque youtube già era una merda prima è diventata una merda prima adesso lo è ancora di più però mi sono scoraggiata non poco perché anche io che faccio gameplay allora devo sempre avere paura devo sempre fare attenzione che non ci siano cose che potrebbero attirare bambini cioè ci rendiamo conto ragazzi quanto sia assurdo tutto questo mi sono scoraggiata mi sono detta ma chi me lo fa fare più e chi ce lo fa fare più a stare qua sopra perché? perché diavolo dovrei continuare a stare qua sopra già ragazzi io per esempio che ovviamente faccio poche views ho un guadagno nullo ovviamente un guadagno assolutamente nullo ragazzi vi assicuro che io non ci guadagno praticamente nulla con i miei video anche perché ovviamente col passare del tempo magari comunque l'algoritmo di youtube continua a mettere vittime tra virgolette tra i video per esempio un po' di tempo fa mi è stata demonetizzata totalmente l'intera serie su until dawn ragazzi ci vi rendete conto che queste sono perdite economiche tra virgolette nel senso che anche i video vecchi comunque continuano a fare views per quante poche siano e quindi magari un minimo guadagno continuano ad avercelo ma sbam youtube viene e te lo taglia via te lo toglie non hai più alcun diritto di guadagno sul tuo contenuto quindi cioè io ho già un guadagno assolutamente nullo fare video ragazzi mi impiega tempo ovviamente durante la mia giornata impiego 3-4 ore della mia giornata solo per fare video quando li faccio ovviamente e quindi vi renderete conto che è qualcosa di totalmente spassionato perché non avendo un minimo guadagno lo faccio perché? perché mi piace farlo perché so che ci sono persone che comunque continuano a seguire quello che faccio io vi ringrazierò sempre di questo ragazzi quindi è bello quello avere il riscontro da parte del proprio pubblico almeno quello ragazzi almeno quel minimo di gratificazione capite? già io non ne ricevo nulla inoltre ci perdo tempo delle mie giornate diciamo perdo tra virgolette tempo delle mie giornate ma almeno la minima gratificazione di avere commenti delle persone che guardano quello che faccio e che quindi la gratificazione che ci sia un minimo di interazione ma youtube in un modo o nell'altro sta ci sta portando via anche quello per cui chi me lo fa fare più chi ce lo fa fare più a stare qua sopra tutto ciò ragazzi di una tristezza infinita perché così youtube è vero io magari posso continuare a fare video però ciò non mi assicura che questa legge poi non tocchi pure me in qualche modo non tocchi pure chi fa gameplay in qualche modo perché il dubbio è grande ma quelle persone ragazzi che magari facevano davvero compassione i propri video e che magari portavano video ovviamente destinate ai bambini e adesso si ritrovano così si si ritrovano bregamente distrutti cioè ritrovano bregamente distrutto tutto il proprio lavoro la propria passione distrutto tutto sempre perché ragazzi perché ritorniamo all'argomento di sempre dietro c'è un lato economico perché youtube si è ritrovato a fare questa cosa perché? perché ci ha perso un sacco di soldi sulla propria risattenzione e quindi dietro ci stanno sempre i soldi sempre i soldi che tristezza che tristezza che è diventato il nostro mondo ragazzi dove tutto deve ruotare attorno ai soldi e quindi tutto viene influenzato dai soldi da come girano i soldi tutto creatività qualsiasi cosa e questa cosa è di una tristezza immensa perlomeno a me ragazzi provoca una tristezza immensa quindi non posso che esprimere il mio immenso disappunto riguardo questa questa nuova cosa non posso che esprimere il mio immenso scoraggiamento riguardo questa cosa e quindi boh io penso che continuerò a fare i video ragazzi ma vi dirò sinceramente che ovviamente quel minimo di entusiasmo che avevo provato a conservare dopo tutto quello che già era successo qua su youtube è diminuito ulteriormente ragazzi mi dispiace dirlo ma preferisco essere sincera non faccio più i video con l'entusiasmo con cui li facevo prima se un minimo ancora minimo ancora più piccolo entusiasmo lo conservo è soltanto per voi soltanto per quei pochi che mi seguono ancora con gioia e che guardano con affetto quello che faccio soltanto per questo ragazzi se no per il resto vi assicuro che tutto mi fa schifo mi fa davvero schifo purtroppo è così per cui ragazzi io ovviamente aspetto i vostri pareri a riguardo perché questa ormai è l'unica cosa che ci è rimasta sempre che ci permettano ancora di averla qua su youtube l'interazione ma ormai forse pure quello diventerà un vecchio ricordo questo video termina qui grazie a tutti un bacione ciao ragazzi